Signori buongiorno, stamattina partiamo con il nostro spiedino, non fresco di più, si potrebbe dire vivo Nella sorpresa, passiamo dallo spiedino vivo allo spiedino cotto, ecco qua per gentile richiesta di una nostra crema In polo position, costoletta e prosciutto di maiale, sempre bella, sempre di qualità, lo stesso vale per il prosciutto Fino all'ultimo, i standard sempre alti, il caldo continua imperterrito, quindi noi continuiamo a cucinare Dallo spiedino alla ristaglia crumi appena fatta, arroz bifo che abbiamo fatto ieri pomeriggio Eccoci qua, già pronti, porzionati come sempre, senza accendere fornello e niente Ed eccoci qua, con il ventaglio della risperazione, quello che ci aspetta sempre prima delle vacanze Bollette, mutuo, finanziamenti, prestiti, impossibile In più, dulcis in fondo, eccola qua Il parente ci ha tenuto a portarla adesso, ok? Tutto domani, ci sono tutte le salute per stare Quindi, sappi che i primi di settembre, ho detto tutto Questa che cos'è? Una fracosta di maiale Com'è? Buonissimo Appettacolare Signori, i saluti di oggi sono per coronare quest'anno passata a Sì L'affetto che ci avete dimostrato è stato eccezionale Quindi, come premio, io oggi e domani vi propongo questo Due bistecche pagate, la terza è in omaggio Ripeto, vi comprate due bistecche, la terza ve la regaliamo noi Come funziona, Sopadò? Ogni due bistecche, la terza è in omaggio Oggi e domani Un bel 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 Allora se me ne compro, sai me ne dai dieci Ma io non ho dieci, ho anche da te Parlamori 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 Grazie per la visione!